Perciò questa considerazione, cioè... Arianna, a proposito di giovani, lavoro, ottimismo, in studio adesso si alzerà una persona che ha un passato di bugie e corporation, ma ti assicuro è una storia revolution. Una storia di... Bugie e corporation. Vuoi ascoltare la mia storia? Sono qui solo per questo. Io in questo girone dell'inferno ci sono già stata. Tu lo corroni adesso. Posso avvicinarmi a te? Sono stata una bugiarda. Francesca, scusa, nel frattempo quando arrivano... Che sta succedendo? Sì. Così. Ti racconto la mia storia. Allora, in questo girone dell'inferno ci sono già stata quattro anni fa. Era una studentessa. Siamo nel girone dei bugiardi. Il girone dei bugiardi, assolutamente. Come ti chiami? Giulia. Giulia. Era una studentessa, iscritta alla specialistica in marketing. E avevo una passione per il giornalismo. Tu mi dirai cosa ci facevi in una specialistica in marketing, però... La mia passione era il giornalismo, la ricerca della verità, qualunque essa fosse. Quindi anche la scomodità di dover cercare... Assolutamente sì. Oltre quello che si dice, oltre quello che dicono e che ci hanno detto. Assolutamente sì. Assolutamente sì. E stranamente proprio a me doveva capitare, una delle prime esperienze lavorative avrebbe messo a durissima prova i miei principi, mettiamolo in questo modo. Perché è una delle prime collaborazioni che ho avviato con un'agenzia di web marketing, prevedeva tra le diverse attività, un'attività un po' particolare. Che ha un nome anche un po' particolare, che in Italia non è molto noto, si chiama crowdturfing. Ovvero la creazione che vuol dire falsificazione delle folle. Crowdturfing. Falsificazione? Delle folle. Del consenso. In cosa consiste quindi questa attività che mi era stata proposta? Nella creazione di identità web fittizie. Quell'operazione che prevede che online vengano disseminate delle informazioni assolutamente non veritiere o comunque viziate, perché sono pagate da quello che è il produttore del bene o del servizio. E tu eri? Io ero una povera, no no, povera no, ero una ragazza che si affacciava al mondo del lavoro e mi è stato chiesto di fare questo. Cioè di fare questo? Per fare questo tecnicamente, quindi venivano dati una sorta di messaggi già fatti oppure dovevo elaborarli io, intorno a dei prodotti e servizi che facevano parte di settori tra l'altro molto delicati come il settore sanitario o quello della cosmesi. Quindi sono cose che già di per sé il marketing deve seguire determinate regolamentazioni per essere… Dovrebbe. Dovrebbe. Cioè dovrebbe dirci qualcosa che sia più possibile. Se riguarda un po' la mia salute o cose che metto comunque addosso, giusto sulla paella. Assolutamente sì. E invece tutt'altro. Mi fingevo un utente che aveva provato il prodotto e dicevo ovviamente delle cose straordinarie. Aveva provato questa crema, erano anche creme queste robe qui? Assolutamente sì, anche interventi chirurgici fatti da chirurgi plastici. Contatto di nome del chirurgo? Assolutamente sì. Ho espresso le mie propensità perché oggettivamente avendo fatto degli studi in comunicazione sapevo che per il codice del consumo questa è una pratica commerciale scorretta. Però sono stata prima ignorata, poi guardata un po' con sospetto, quindi ho proseguito per un po' l'attività, dopodiché ho detto no perché assolutamente non… Allora arriviamo al tono, marketing bugiardo versus marketing etico. È questa la revolution? Sì, l'unico modo per dire di no è stato dire no e non farlo più. E questa roba? L'associazione UOM è l'associazione di word of mouth marketing etico. Che tradotto vuol dire… Che vuol dire marketing del passaparola etico, ovvero dichiarato. Cioè quindi se io invio un prodotto a un blogger per far sì che quel blogger lo sperimenti e scriva una recensione, lui lo deve dichiarare. C'è stata questa revolution nella tua vita, non ce l'hai fatta a reggere quella vita pittizia e di bugia con un'identità? Semplicemente c'è disinformazione perché molti ragazzi banalmente lo scrivono anche sul CB. Cioè una cosa che ha i limiti della legalità la presentano come un'esperienza lavorativa. Nel mio CB non lo trovate perché… Nel mio CB sarebbe il suo curriculum… Sì, nel mio curriculum assolutamente… non ho mai lavorato in questa agenzia. Questa cosa l'hai eliminata. Come difenderci perché nella mia testa a questo punto è tutto un po' finto, non è niente più vero. E allora se leggo di un prodotto penserò che ci sono delle identità finte, fittizie che mi vogliono… mi stanno dando comunque una… mi stanno buggerando. Cioè invece tu mi dici esiste un marketing etico, come lo capisco, come lo riconosco? Bisogna innanzitutto essere critici di fronte a qualsiasi affermazione perché nessuno può dare la soluzione. Quello che puoi fare è sicuramente rivolgerti a delle fonti di informazione che siano comunque credibili. Ci sono dei forum o comunque dei siti che specificano che il marketing che si fa all'interno di questi siti è un marketing etico. Certo, grazie Giulia. Grazie a te. Grazie a te.